Presidente Seracchiani, oggi comincia una fase di concertazione tra la regione, le parti sociali, le categorie, le associazioni per un nuovo piano industriale sempre più necessario per questa regione, anche visti certi casi difficili ancora da risolvere. Sì, lo avevamo annunciato e avevamo detto che stavamo lavorando appunto al piano di sviluppo regionale delle politiche industriali. Non ci occupiamo soltanto di tavoli di crisi, qui c'è una visione d'insieme, analizziamo non soltanto i contenitori e quindi parleremo di consorsi, di distretti industriali, ma anche i contenuti. Vogliamo l'internazionalizzazione delle nostre imprese, una maggiore innovazione, vogliamo creare le condizioni per le reti d'impresa, insomma vogliamo che questo territorio si muova a sistema e ripensi anche un po' il modo con cui fa Manifattura. Quale sarà lo strumento più importante e più urgente per far ripartire l'economia nella nostra regione? Indubbiamente il sistema degli investimenti che stiamo già riordinando, mettendo a sistema Finest, Friulia e Medio Credito. C'è da dire poi che abbiamo la necessità di ricercare per alcuni territori una nuova vocazione. Si tratta di intervenire sui consorsi industriali, sui distretti industriali e si tratta anche di capire quali sono i nostri mercati di riferimento e come riuscire a penetrarli. Il che non significa delocalizzare, ma al contrario produrre qui, produrre sempre con maggiore qualità e riuscire a penetrare poi con i nostri prodotti i mercati internazionali. Grazie. Grazie.